Alleluia! Amen! Ascoltate cari ancora per finire le parole di questo prezioso canto che faremo alla gloria di Dio e anche per portare una parola di speranza nei vostri cuori perché solo in Gesù Cristo vi è speranza e come abbiamo già sentito Gesù non è una religione, Gesù non è una statuetta Gesù è il re dei re Gesù Cristo è sconfitto la morte Gesù Cristo è il re della gloria avvicinatevi a lui Gloria a Dio Gesù, tu sei il figlio di Dio il giusto che per noi morì il Redentor Alleluia! Gesù il sacrificio serve E un giorno tu ritornerai qui per regnare il suo regno di Dio il suo regno di Dio il suo regno di Dio la sua gloria risplendere di Dio Gesù Cristo è il giornale Dio 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 figlio di Dio tu sei Gesù figlio di Dio tu sei Gesù è il Messia l'unico salvatore l'unica speranza Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori amè gloria a Dio come fa quel canto? tre cucchietti e un euro Gesù Cristo è tanto grande tre cucchietti e un euro come lui ogni cosa ne può fare Gesù ogni cosa ne può fare questo canto di Gesù Cristo è tanto grande non c'è un altro come lui alleluia alleluia vi amo amico Gesù va bene alleluia anche a te amico alleluia 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 amè amè gloria a Dio che il Signore vi benedica cari di Napoli cari fratelli e sorelle che guardate questo video è una gioia trovarci qui in questo mercato di Napoli per diffondere il messaggio del Vangelo della salvezza che è solo Gesù Cristo colui che ci dà il perdono e la vita eterna Dio vi benedica nel nome di Gesù amè alleluia 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 gloria a Dio gloria a Dio grazie Signore alleluia 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 Grazie.